ciao a tutti eccoci qui benvenuti a questo mio nuovo video oggi è il secondo giorno di neve ha nevicato ieri e qui sono i resti della neve che possiamo vedere si è sciolta nella strada che non aveva attaccato tanto e comunque i tetti sono ancora abbastanza bianchi è caduto circa 3-4 centimetri possiamo vedere qui i resti la neve abbastanza densa vedete qui una palla che ha fatto mia sorella vi faccio vedere questa inquadratura vedete la via in lontananza si riesce a vedere che c'è ancora un po' di neve comunque in tutti i giardini c'è ancora un po' anche la via adesso qui c'è il sole battente come potete vedere che sta sciogliendo quasi tutto e infatti anche dal tetto qui della chiesa vedete che ci sono ancora pochi resti e sopra le macchine c'è ancora qualcosa mentre dopo vi metterò nell'ultima parte il video della neve mentre nevica che anche se al buio non si vede proprio benissimo se dovessero tornare a nevicare sicuramente entro questa settimana dovrebbe attaccare bene sicuramente anche perché adesso sono attaccato perché in questi ultimi giorni c'era stato abbastanza caldo e i terreni e le strade erano ancora caldi e loro non attaccavano e ci sono abbastanza rinfrescati con questa nevicata qui possiamo vedere dopo abbastanza tempo più o meno lo spessore vedete metto dentro il dito mi arriva vediamo un pochino arriva fino qui sono circa 2-3 centimetri comunque ce n'era di più vedete che si riesce a fare qualcosa abbastanza densa e se la tiriamo se li frontiuma abbastanza normalmente bene allora stiamo spuntando e vediamo l'altra persona stiamo attendendo la prossima nevicata con molta ansia e quindi per il momento è tutto grazie a rivederci commentate e iscrivetevi ciao ciao